Ecco Ristorazione Aquilana, un progetto promosso dall'SM per la lotta agli sprechi e al tempo stesso per ridurre i rifiuti organici. Contestualmente è stato firmato un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Camera di Commercio e Slow Food, coinvolte in questo progetto. Quello che noi interessa come CNA è quello di partecipare a quello che possono essere l'emiliazione degli sprechi a tutti i livelli. Ovviamente noi siamo redditi anche di una manifestazione importante, l'Expo 2015, che parlava chiaramente del vivere bene, dell'alimentazione e pertanto noi siamo dell'avviso che le persone che si avvangono di ristoranti e magari qualcuno ha un po' il timore di poter portare a casa l'alimento che non consuma nella tavola del ristorante, chiaramente si vengono invogliati. Un progetto che coinvolge ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi, laddove si registrano gli sprechi alimentari più consistenti. Un progetto che sposa l'obiettivo europeo di ridurre per il 2025 lo spreco alimentare del 50%.